Ciao a tutti e rieccoci al primo gameplay di The Walking Dead Episodio 2 Fortunatamente sono riuscito a coprire i salvataggi dell'1 e quindi le azioni che ho compiuto nell'1 avranno un peso in ciò che succederà nel 2 Ma vediamo com'è Buon ricordi figli di puttana questo qui vecchio di merda che ha parlato ora una foresta ambientazione nuova uno zombie, iniziamo già bene un personaggio nuovo anche un altro in realtà Aaron no si tra le hai i i i chi va a prendere la mia mano? Siamo tutti all'interno. C'è un po' un pozzo. Sì, tu è vero. Vorrei sapere di sicuramente quanto c'è la città. Si dovrebbe chiedere un pozzo. Sì, dovrebbe chiedere un pozzo. Sì, dovrebbe chiedere un pozzo. Se dovrebbe chiedere un pozzo di Kenny. Si è proprio preoccupato di che il suo figlio. E anche preoccupato di Clementine. Pensi che Kenny ha più di più di più che ci siamo qui? Sì, spero. Sì, tra l'altro di food e Kenny e Lily fighting all'attimamente, things are getting pretty tense back at the motorhome. You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV in. Kenny going to bandits. He was a good man. I guess we'll see. Can't blame him though. Did you hear Larry going off on him last night? We see old guys dealing anyway. Seems like he's got a problem with you in particular. Larry di merda, il vecchio, che mi ha dato un pugno. He thinks I'm a danger to the group. And Clementine. I think he's the one putting us in danger. The way Lily worries about his health. I wouldn't be surprised if she's been skimming rations for me. And I know Lily thinks he's getting weaker. But the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to step in the room with him. And did I punch him in the face one time? Oh, knock me flat. C'è. Non fammelo ricordare. Figli di troia. Ma cornacchia. Cibo, cibo. Sparale, sparale. pois καιイ slow. Im kill. We money will have nothing to say in this point. I must have once Conversation. I must have a mistake. Oh no. That was Kenny? Was it Kenny? Hamade Renato? He's mar пром to the second handful. Come And Juan... Power up. Power up. Powerup. e e e e a a a a a a jesus christ oh shit no no please don't kill us we just want to help our teacher we 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 I swear Lee you guys okay Eh... Get, get it off, get it off, goddammit, get, get it off me! Travis, magari si possono aiutare! Questi sono gli stessi che raiati il nostro camp, e non ci siamo riusciti da quello! Cosa ragazzi? Cosa c'è un bambino che c'è qui? Chi raiati il camp? Non lo so, ragazzi con le pezzi! Sì, non lo so, non lo so, non lo so! Sì, è f***ato, devi aiutare! Sì, no... Cosa c'è? Il mio padre ha dei corsi speciali, lo so che sto facendo! Sì, vedi se puoi uscire! Dopo questo puoi uscire o che altro! Non lo so, per favore! Sì! 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 Mark, vieni i ragazzi! Kenny! Sì! 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 Eh, le taglio per forza, se no non fa! Eh, resisti, strano! Sì! Sì! No, no, mi spiace! Via! No, no, mi spiace! Me l'ha fatto bene, eh! Dai, l'ultimo colpo! Metteremo una protesi Ho tagliato David Se è vivo, prenderlo e andiamo E dai, muovetevi Travisto! Travis! E si, che cazzo stava facendo essere andato via per vomitare? Ma che idiota! Mangiatelo, mangiatelo Nooo Sparo, sparo Cos'ho ammazzito Che fucile eh E lei il leader, pensate come siamo messi, diventata lei il leader Che ha fatto? Che c'è! Che c'è? Che c'è? Che il passo di vedere? Che il cuore? Che ti scegliamo? Che non è solo che stai portando a te persone qui. Che cosa pensi? Che vuoi piacere per ogni minuto? No! Non lo so! Voglio sapere cosa pensi che aggiungi più mali per la miavasca è una buona idea Pensavo che potiamo salvare la vita E io l'unico che ho fatto la terra E questo mi fa responsabile Un minca picco di merda E io sono% di sforza Non mi sono più assurda Ma come? Allora, non mi sono più assurda Vieni qua e vediamo cosa ho fatto Che? Noi, non... E come, ok? Sai, ti piace pensare che sei il leader di questo gruppo? Prendiamo le nostre decisioni che sovrappone Questo non è il vostro dicicchio personal Dictatore Oh, come, sei sei termine dramattico Tutto sempre diventa una struttura di potenza tra te due. Non sarò parte di questo. Ok, non ho chiesto di lasciare questo gruppo. Tutto mi piaciuto di distribuire la città quando c'è sufficiente per andare. Ma ora che si tratta, inoltre sono un nazista nazista. Kinney è vero. Si, sei attraverso la città e le giorni, ma non sei attraverso le persone. Sì, non sei attraverso la città. Lei ha fatto una scelta. Quando Caccia incontrava il loro, tu puoi il dì. Le porti il loro, non mi preoccupi di più. Ma comunque, loro devono avere una scelta per la città. E per il caso, Kinney voleva lasciare i stessi di scendere. Se Kinney lasciare i stessi di scendere per 5 secondi, potrebbe sapere che io faccio queste decisioni per proteggere la sua famiglia. Non abbiamo più tempo. Non vedo nessuno di voi, come per fare le cose difficili. La mia ragazza ha più balli che tutti voi combinati! No, io l'ammazzo, io l'ammazzo! Perché non puoi aiutare Mark con la palla? Io l'ammazzo, io l'ammazzo! Il tuo destino è già scritto e ti ammazzo, in un modo o nell'altro. Vedi cosa? Se pensi che sto facendo un tanto lavoro, allora fai! E' tutto il freddo che abbiamo per oggi. E' tutto il freddo che ti dà. No, io sono vero! Prendi la freddo e iniziò mandarlo! Vedi come mi sento di non avere una freddo per tutti! Ma vaffanculo, me lo mangio tutto io! Fottetevi voi! Quattro persone su dieci! Ah, al vecchio non gliene dà da mangiare, questo è sicuro! Alla escludo il vecchio! E' che cosa, sono anche i bambini! Ah, merda! A me, che faccia da funerale, dai! Troveremo qualcosa da mangiare! Fottuna troia! No, no, non gliene dà voglio! Ehm... 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 Miaittura. nemmeno... ... A me, ho un pozzo di carne... E' un po' di carne secca Grazie, Lee. Hai un po' di aiuto con il mondo? Non. In realtà, potremmo usare il vostro aspetto. Hai capito se lo prendiamo? Sì, diamo questa cosa per un po' di tempo. E' un po' di aiuto. Grazie No 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 Tre pezzi di cibo Guarda No 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 No